Prendilo! Ci occorre, ti prego, prendilo! Allontanati da me. Aiuti. Farò del male. Di nuovo. Cosa? Che cosa ti hanno fatto? Mi hanno mostrato quello che sono. Solo tu puoi mostrare quello che sei. Tu scegli in base a quello che fai. Tu sei qui per dare una mano. Io lo so, questo. Chiudete gli occhi. Sarà questione di un momento. No! Dall'ombra voi provenite. Dall'ombra voi provenite. Nell'ombra vi invito a tornare. Ritorna nell'ombra! Egli non è Sauron. È l'altro. Lystar. Egli è... Io sono buono. L'ombra vi homes Grazie a tutti.